La via della vite è dritta e sinuosa, c'è proprio questa sinuosità la vite che è bellissima, eppure dice Eraclito la vite è dritta, c'è un suo fulcro, un suo baricentro, un suo ombelico attorno al quale crea questa sinuosità ma nello stesso tempo ha un centro. Ed è molto bello questa definizione di essere sinuoso, quindi di essere flessibile, di adattarsi, di crescere a secondo, di seguire un flusso, ma nello stesso tempo ha un centro, un centro molto forte, e quindi è dritta, è dritta perché ha un centro. E' questo, queste sono viti degli anni 50, innestate negli anni 50, e raccontano proprio questo, le viti lasciate, è chiaro che non sono più viti costrette in un filare, hanno questa libertà di potersi muovere nello spazio, quindi ormai hanno strabordato, il filare era questo, ma non stanno più nel filare, però stanno attorno a questo filare, e seguono questo filare, e lo avvolgono, gli creano questa sinuosità, questo vortice, tutte le forme, il caos ha una forma circolare, ha una forma caotica, d'imbuto, il tornado è sinuoso, è dritto e sinuoso, un tornado, un ciclone, la vita ha questa primordialità, di essere, di avvolgersi, ma nell'avere un centro, questo secondo me è molto bello, è quello che ha affascinato probabilmente per millenni, da quando la vite è diventata questo simbolo, la vite, l'uva e il vino, la forza, l'energia, e questa sua concentrazione attorno a un centro, mantenendo questa, questa riosità, questa, queste sono vite ancora che hanno una forza incredibile, eppure dici, ma dove passa qui la linfa, no? Perché ha subito proprio il tempo, eppure ha ancora una forza vitale incredibile, non capisci neanche più dove sta la radice, no? Il fusto, direbbe Steiner quasi un prolungamento della terra, è come se la terra si facesse pianta.